Il video dedicato ai 10 talenti sconosciuti che ho commentato vi è piaciuto tantissimo Alcuni li conoscevate già, altri meno Ma soprattutto siete impazziti all'idea di vedere un altro video In cui vi raccontassi i 10 giocatori più scarsi che ho commentato Bene, oggi ci facciamo due risate, quindi mettetevi comodi e partiamo Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Sempre in quarantena, quindi ci facciamo compagnia a vicenda Con un altro video dedicato a Sport Italia Sapete, ve l'ho detto anche la scorsa volta e ci sono tantissimi video sul canale in cui ne parlo Ho lavorato a Sport Italia per alcuni mesi Ho fatto tantissime telecronache divertenti in cui ho scoperto bei talenti Però, perché il bat c'è sempre E ho avuto anche modo di raccontare giocatori un po' meno entusiasmanti Logico, perché comunque i campionati che ho commentato non erano di primissima fascia E quindi era strano trovare il fenomeno più che il giocatore scarso E per questo motivo, realizzare, costruire, preparare questo video è stato molto difficile Sono andato un po' a ricordare alcune partite all'interno delle quali Mi fosse rimasto impresso un giocatore che non aveva fatto per nulla bene Oppure viceversa, un giocatore che si vede che fa la partita della vita ma non è nulla di che E quindi in questo video vi presento i 10 giocatori, chiamiamoli così, più scarsi che ho commentato Sempre per non far torto a nessuno li ho selezionati in ordine cronologico Quindi non dal più scarso al più forte ma dalla mia prima telecronaca, in questo caso perché è stata veramente la prima A una delle ultime Al primo posto quindi c'è Marvin Schwabe del Brondi Allora, non tutti si ricorderanno di questo 24enne tedesco con Nazionale di Neuer Ma non per questo, con le stesse capacità tra i pali Ebbene, questo signore, o meglio ragazzo perché è giovanissimo anche se è un gigante tra i pali Si è reso protagonista il 29 settembre del 2019 Quindi proprio il giorno della mia prima telecronaca in quel son dei rischi e brondi Con una paperaccia clamorosa in occasione del gol del 2-0 momentaneo a favore dei padroni di casa Che era poi finita 2-1 con la funicina di Kaiser di cui abbiamo parlato nello scorso video Ma oggi parliamo di un suo compagno di squadra, ormai ex perché Kaiser è tornato in Germania Però appunto questa papera mi è rimasta impressa Che poi va al centro, Schwabe la lascia lì, attenzione alla carambola e arriva il 2-0 Papera incredibile di Schwabe che si dimentica il pallone Poi tra l'altro non è neanche una gran stagione quella di Schwabe Onestamente in 24 presenze ha preso 34 gol Quindi naturalmente il campionato è fermo adesso anche in Danimarca E meno male per lui, mi verrebbe in mente da dire Allora per questo video ho selezionato anche dei calciatori Dai quali magari sono rimasto deluso Quando ho preparato la telecronaca pensavo dovessero essere dei fenomeni E invece così non è stato Quindi è tutto soggettivo chiaramente Però al secondo posto ho messo Mart Lider E qui il buon Orazio Comando mi ucciderà Lider che ha giocato con il Sonderiske Attaccante centrale, olandese Lider come si dice da Noca e questa potevo anche risparmiarmela Questo giocatore, questo attaccante che sta per raggiungere qua da 30 anni Ne ha attualmente 29 Mi è rimasto per l'appunto impresso per una prestazione negativissima contro il Brondi Soprattutto in fase realizzativa Perché tra primo e secondo tempo si è mangiato di tutto Viene incontro Rocas, triangolazione e poi cross Verso Lider sul palo Ricordo questo palo ad esempio Che è gol mangiato più che sfortuna onestamente Perché era da solo all'interno dell'area di rigore Ma soprattutto, cosa che poi non si vede nella sintesi Nella ripesa a tantissime occasioni Contro il Brondi, contro il Copenhagen Quando ho ricommentato poi il Sonderiske Quindi Lider malino, almeno quando l'ho raccontato io Vi ho parlato di un portiere, vi ho parlato di un attaccante E adesso per il terzo posto torniamo in porta E ci torniamo con un nome che magari alcuni di voi avranno già sentito Perché in Champions League questa avversaria è stata affrontata dal Napoli E questo portiere in particolare fece il mostro quando si giocò alla Luminous Arena Vi parlo di Gaetan Kouke Portiere titolare, ma non troppo ultimamente Del Genk, proprio per le sue prestazioni non proprio positive Eppure in quella serata contro il Napoli Tenne lo 0-0 in un modo, come piace dire a me Con un'enfasi non indifferente Prese di tutto, fu clamoroso Kayekon prima, Milik, Insigne Insomma ricordo un Napoli arrembante Ma che pareggiò in modo anche deludente Se volete per 0-0 in Belgio Kouke poi in stagione, al di là di quella prestazione Si è messo in evidenza, sì Ma per uscite sbagliate Tipo quella su Suzuki Alza la testa e vale attraversone verso Suzuki Che anticipa Kouke E mette in porta il gol del sorpasso E poi una serie di gol subiti 28 in 18 presenze per la precisione Tant'è vero che ha perso il posto Tra i pali per il Genk è andato addirittura Vandevort Che è un giovanissimo di 18 anni, appena maggiorenne Poi si è infortunato e quindi Kouke si è ripreso il posto Ma insomma, malino anche lui Però certo, certo, vi capisco E' facile evidenziare soprattutto brutte prestazioni di portieri Di squadre che non stanno facendo un'ottima stagione E se vi evidenziassi al quarto posto Simon Mignolet Lo conoscete, no? Tanti anni a Liverpool E anche lì, insomma, non mi ha mai fatto impazzire Ma questo, ripeto, è soggettivo Fatemi sapere nei commenti, anche qui nelle schede Se a voi Mignolet piaceva o meno Fatto sta che poi è stato ceduto anche malamente Prima gli ha preso il posto Karius addirittura E poi Alisson con il tempo Mignolet non sta facendo bene neanche al Club Brugge Che è primo in classifica saldamente Insomma, adesso, ripeto, siamo fermi Ma lo era nella prima parte di stagione Nella seconda Si stava per andare poi ai playoff Scudetto, sapete come funziona in Belgio? No, non lo sapete chiaramente Però, insomma, funziona così Quindi ci saranno dei playoff La fase finale del campionato Che può anche un po' stravolgere la classifica Però Mignolet mi ha un po' deluso O meglio, ha confermato quello che pensavo di lui Malino nelle uscite Poca sicurezza tra i pali E poi un piazzamento Per carità io non faccio il portiere Ma che non mi ha mai convinto Dalla parte opposta il suggerimento per Kage Al centro c'è soltanto Boio Arriva la palla sul secondo palo Proprio per Ramboglio Che accorcia le distanze Siamo arrivati a metà della nostra classifica Che poi non è una classifica È un elenco, no? Ed è il momento di arrivare anche all'interno Del campionato primavera Vi ho parlato bene dei talentini della primavera Nello scorso video Avevamo citato Marigosu Cortinovis Oggi vi cito un attaccante Della Lazio primavera Nello specifico Tairo O Tiro Non ho mai capito la pronuncia Nimmermer Attaccante olandese 18 anni per lui Un pennellone alto 2 metri Ma che con i piedi Francamente Almeno quando l'ho commentato io E ripeto lui è uno di quei giocatori Dai quali mi aspettassi un pochino di più Nulla Il nulla proprio Nulla cosmico Ha sbagliato anche dei gol Decisivi poi All'interno di quelle partite Ne ricordo uno Contro il Chievo In casa Ebbe 2-3 palle gol nel primo tempo Poi il Chievo vinse la partita A Formello Quindi in casa della Lazio Stessa cosa contro il Sassuolo Anche se lì si diede un po' da fare Sotto il profilo degli assist Giocò molto per la squadra Poi viene sostituito Però nel complesso Mi è sembrato il classico Non voglio utilizzare termine bidone Anche perché è giovanissimo E quindi Avrà tutto il tempo per smentirmi In positivo lui Così come potrebbero smentirmi Negativo Maricosu e Cortinovis Quindi ripeto Si parla di giocatori giovanissimi Meglio non fare troppe Non dare troppe etichette Ecco Ma a me Francamente Non è piaciuto Quindi ripeto È soggettivo Fatemi sapere se lo conoscete Se ti fate Lazio Se pensate che possa diventare Il nuovo Van Basten Posizione numero 6 Per il primo difensore centrale Di questo video Ci spostiamo in Scozia In casa dell'Aberdine E vi presento Scott McKenna Quello che vi posso dire Avendolo raccontato In due occasioni Contro il Celtic in casa Contro il St. Johnston in trasferta Vi posso consigliare A questo calciatore Per una rissa Ecco Per Pugilato Probabilmente potrebbe diventare Il nuovo John Cena Non credo che Sfonderà Nel mondo del calcio Un altro difensore centrale Che francamente Mi ha lasciato un po' L'amaro in bocca Poi Non ho particolari aneddoti Su di lui Credo semplicemente Che sia un po' scarso Anche vista la carriera Che ha fatto E serviva il numero Per arrivare ai 10 Perché se no Non ci arrivavamo Giancarlo Gallifuoco Giancarlo Gallifuoco Anche dal nome Potrete vincere Che ha origini italiane Non è italiano Perché in realtà Lui nasce a Sydney In Australia E gioca In Australia Con la maglia Del Melbourne Victory Ha segnato anche Una rete In E-League Quest'anno Però onestamente Ragazzi Robetta Oh La posizione numero 8 Mi diverto Perché con questa posizione Cambiamo totalmente regime Cioè Avete presente I criteri Che vi ho dato Di scelta Per questo video Questa posizione Non c'entra nulla Vi metto un portiere Che Ha fatto il contrario Cioè Io sono convinto Che questo portiere In realtà sia scarsissimo Però Durante La gara Tra Anderlecht E Charles Roy Il buon Vecchio Nel senso Buono della parola Ma non troppo distante Dalla realtà Perché a 39 anni Nicolas Penteo Ha salvato L'impossibile Ha parato di tutto Tant'è vero Che io in telecronaca Sono impazzito E nel secondo tempo Gli ho anche dato Del super saiyan Per la penultima Posizione di oggi Vi torno a parlare Di quei calciatori Che in realtà Mi hanno deluso Per come li avevo preparati Per come me ne avevano parlato Nello specifico E qui vi parlo Di un trequartista Rezan Corlu Che dal nome Sembra rumeno Ma in realtà È danese Lui che gioca In Danimarca Appunto Con la maglia Dell'Ingbi E me lo ricordo Perché ho avuto Il piacere Se così si può dire Di commentarlo In L'Ingbi Brondi La seconda volta Che commentavo Il Brondi Dopo il Sonderisch Anche lui segnerà Viene anche un po' Da ridere Perché dovete sapere Che Jordan Botaka È entrato Con questa perla Di cui vi parlerò adesso Nella storia Del web Dell'Instagram In particolare Di Sport Italia E anche di Federico Marconi Ma il suo Nulla di clamoroso Poi Sul punteggio Di 1 a 2 In pieno recupero Succede questo E se succede questo Io non posso Non inserire il buon Botaka All'interno di questo video Mi dispiace Mi dispiace Perché io non credo Che lui sia Completamente scarso È stato meraviglioso Tant'è vero Che caricai Su Instagram Quel pezzo lì Insomma Della partita Con il colo sbagliato Scrivendo Taggate nei commenti Un amico Capace di sbagliare Un gol del genere E commentò il post Paul Garcia Che è Un compagno Di squadra di Botaka E il commento è questo qui Io saprei chi taggare Io saluto E mando un bacione Enorme anche a Paul E direi Che non c'era modo migliore Di concludere questo video E questa classifica Che Signori È stata complicata Vi ripeto Da creare Perché onestamente Al di là degli scherzi L'ho buttata molto Sull'ironia Ma non amo Giudicare in negativo Un calciatore Ci stava Giustamente Questo video Dopo avervi raccontato I migliori Detto ciò Però io vi Esorto A farmi sapere Se per caso Avete voglia Che continui Questo format E che quindi Magari vi possa Raccontare In un prossimo video Non so Le 5 partite più belle Da me commentate Le 5 rimonte più assurde Fatemelo sapere E chiaramente Vi porterò Un altro video Di questi Soprattutto Commentate qui sotto Fatemi sapere Se conoscevate già Qualcuno di questi E se effettivamente Li ritenete scarsi O meno Detto ciò Se siete nuovi Iscrivetevi al canale Seguitemi chiaramente Su Instagram Un bacione Never give up E bella rega 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 Grazie a tutti.